Penso che sia proprio una partita equilibratissima e alla pari. Non vedo nessuna favorita, perché alla fine il percorso che abbiamo fatto e la storia di questi ultimi anni dice che sia noi che loro siamo in cerca di conferme e siamo in cerca di riprenderci un po' di prestigio che magari negli ultimi 3-4 anni è venuto meno.